Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per la nostra unità sul piano cartesiano oggi andremo a vedere l'intersezione di due rette. Per intersezione noi intendiamo il punto in cui due rette qualsiasi vanno a incrociarsi. Questo chiaramente non vale nel caso di due rette parallele, ma nel caso di due rette che non siano parallele tra di loro noi sappiamo che avranno un punto in comune. Come lo troviamo? Intanto cominceremo a considerare come si trova l'intersezione di due rette qualsiasi con gli assi cartesiani, ovvero con gli assi x e y e vedremo che esistono due metodi. Questi due metodi che sono appunto il metodo grafico che essenzialmente si tratta di disegnare le nostre rette e il metodo algebrico che essenzialmente si tratta di fare un sistema di equazioni ecco lo applicheremo poi nel caso più generico dell'intersezione di due rette qualsiasi. Vedremo quali sono i vantaggi e le limitazioni di entrambi i metodi e vedremo come applicarli entrambi. Quindi cominciamo ponendoci la prima domanda come trovare l'intersezione di una retta con gli assi cartesiani e cominciamo appunto vedendo quello che si chiama il metodo grafico e piuttosto che delineare delle regole generali che in questo caso non ci sono noi lavoreremo con degli esempi quindi di volta in volta noi considereremo delle rette qualsiasi andremo a vedere come all'atto pratico si trova la loro intersezione in questo caso con gli assi cartesiani oppure tra due rette qualsiasi consideriamo una retta per esempio y uguale un mezzo x meno 1 voglio trovare le intersezioni di questa retta con gli assi cartesiani con l'asse delle ascisse x e con l'asse delle ordinate y come faccio? procedo come abbiamo fatto finora per rappresentare una retta nel piano quindi facciamo la nostra tabellina a doppia entrata x e y assegniamo due valori a caso alla x per esempio scrivo x uguale a 1 e x uguale a meno 1 va bene? allora per x uguale a 1 un mezzo per x fa un mezzo per 1 fa un mezzo un mezzo meno 1 fa meno un mezzo e questo è il nostro primo punto e poi andiamo a disegnarlo qui nel piano se x è invece uguale a meno 1 no, meno 1 per un mezzo fa meno un mezzo meno un mezzo meno 1 fa meno tre mezzi ecco trovati due punti e voi sapete che per due punti in un piano passa una e una sola retta quindi andiamo a vedere x uguale a 1 y uguale a meno un mezzo questo è il nostro primo punto e per x uguale a meno 1 questo è uguale a meno tre mezzi che sarebbe meno 1,5 e questo è il nostro secondo punto a questo punto abbiamo bisogno di un righello per poter disegnare la retta allora ora abbiamo il nostro righello lo posizioniamo lo ruotiamo opportunatamente vediamo se riusciamo a dargli l'inclinazione giusta troppo qui bisogna andare un po' per tentativi più o meno ci siamo eccolo qui e a questo punto possiamo disegnare la nostra retta come al solito puntini 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 per dire che la retta continua in questa direzione disegniamo e puntini 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 a questo punto tagliamo il nostro righello e vediamo immediatamente che abbiamo trovato i nostri due punti di intersezione indicherò con A l'intersezione con l'asse delle ascisse A e con B l'intersezione con l'asse delle ordinate ora intanto non ci stupisce che il fatto che la la seconda coordinata appunto anzi scriviamolo qui no A che coordinata A coordinata 2 0 ovviamente perché stiamo parlando di intersezione con gli assi quindi una delle coordinate sarà per forza 0 nel caso dell'asse delle X sarà l'ordinata essere uguale a 0 nel caso di B intersezione con l'asse delle ordinate sarà la X la scisse essere 0 ed è 0 meno 1 ora come vedete questo è un sistema molto semplice per trovare le nostre intersezioni è anche vero però che siamo stati fortunati nel senso che io ho scelto una retta abbastanza semplice e che mi dà delle intersezioni che sono dei punti ben definiti qual è il problema di questo di questo metodo è che a volte può capitare che l'intersezione che gli assi sia dei punti che non siano esattamente che so degli interi o delle metà e quindi quello che può succedere è che questo sistema può darmi un risultato che sia approssimato vediamo allora come svolgere lo stesso compito usando un metodo diverso il metodo algebrico quindi non andiamo a disegnare nulla risolviamo semplicemente la nostra equazione ricordo la formula per la funzione della nostra retta usiamo la stessa retta di prima quindi un mezzo x meno uno e a questo punto voglio usare il metodo algebrico per trovare l'intersezione con l'asse dell'x e dell'y cominciamo con l'intersezione dell'asse di y che è quella più semplice no? perché l'intersezione con l'asse delle y si trova semplicemente mettendo la x uguale a 0 ok? perché chiaramente è il punto in cui la nostra retta ha l'ascissa uguale a 0 e cosa succede se x è uguale a 0? vado a sostituire il valore 0 qua dentro e cosa mi viene fuori? mi viene fuori che y è uguale a un mezzo per 0 cioè 0 meno 1 ovvero meno 1 quindi qual è la coordinata dell'intersezione dell'asse di y che se vi ricordo prima avevo indicato la lettera b è 0 meno 1 lascio a voi verificare se sono gli stessi valori che avevo trovato con il metodo precedente non ci vuole molto per capire allora come trovo l'intersezione con l'asse delle x no? per trovare l'intersezione con l'asse delle y avevo messo x uguale a 0 in questo caso devo mettere y uguale a 0 e di nuovo devo risolvere un'equazione questa volta è un'equazione per la x quindi y uguale a 0 quindi significa che 0 è uguale a un mezzo x meno 1 e questa risolvo come ho sempre risolto questo tipo di equazioni per esempio aggiungo 1 a entrambi i termini scrivo qui accanto più 1 quindi cosa mi viene? mi viene 1 uguale a un mezzo x a questo punto ho la mia equazione ridotta nella forma normale devo dividere per il coefficiente della x dividere per un mezzo non è altro che moltiplicare per 2 e se moltiplico per 2 entrambi i membri mi viene fuori e mi permetto di rigirare intanto lo stesso mi viene fuori x uguale a 2 quindi la coordinata della intersezione della mia retta con l'asse di x è 2,0 di nuovo lascio a voi controllare che siano esattamente i stessi valori che avevamo ottenuto prima vi anticipo sì sono esattamente i stessi valori che abbiamo ottenuto prima e cosa deriva da questo fatto? deriva il fatto che questi due sistemi sono complementari il più delle volte un esercizio vi verrà chiesto di usarli entrambi e chiaramente il punto è che entrambi dovranno dare gli stessi risultati a questo punto siamo pronti a rispondere alla domanda successiva quella più generica come trovare l'intersezione di due rette qualsiasi cominceremo come prima con il metodo grafico allora supponiamo di avere intanto una prima retta che scriveremo qui y uguale a 3x meno 3 ora lasciamo stare la seconda retta per ora ci invitiamo a disegnare la prima retta di nuovo facciamo la nostra tabella dopo entrata la scrivo qui x e y ora per semplicità metto x uguale a 0 per x uguale a 0 y uguale a meno 3 come vedete ora sto svolgendo i calcoli un pochino più velocemente sta a voi un po' controllare che siano corretti poi metto x uguale a 1 per x uguale a 1 3 per 1 fa 3 3 meno 3 fa 0 ok questi sono i primi due valori quindi x uguale a 0 y uguale a meno 3 quindi questo è il mio primo punto e poi per x uguale a 1 y uguale a 0 va bene e ora vediamo di disegnare questa retta con l'aiuto del nostro amico righello vediamo di disegnare la nostra retta ci siamo quasi ecco qui allora 1,2,3 1,2,3 e così è fatta la nostra prima retta ora possiamo disegnare la nostra seconda retta per esempio consideriamo la retta di equazione y uguale meno x più 5 come prima per disegnarla utilizziamo una tabella a doppia entrata con due valori per la x e i corrispondenti valori per la y cominciamo con valore semplice x uguale a 0 per x uguale a 0 y uguale a 5 e per x uguale a 1 y uguale a meno 1 più 5 cioè 4 andiamo a disegnare i nostri punti quindi il punto di coordinate 0,5 si trova qui proprio in cima al nostro disegno e il punto 1,4 si trova qui allora con l'aiuto del nostro righello che avevo già posizionato nel posto giusto andiamo a disegnare la nostra retta eccoci infatti l'ho già spostata ecco 1,2,1,2,2 ed ecco fatto e come vedete le nostre rette ovviamente si interse e si interse in questo punto ora al netto delle imprecisioni in questo disegno è chiaro che la nostra intersezione si trova in un punto che indica con A e che ha come coordinate 2, 3 siamo stati fortunati, fortunati tra virgolette perché in realtà questi valori li ho scelti apposta perché il nostro punto è venuto con dei valori ben precisi perché potete capire qual è il limite di questo metodo il limite è che può darsi a volte che questi numeri non siano esattamente sulla griglia quindi devo dare un valore che sia approssimativo un valore che sia esatto me lo può dare solo il metodo algebrico che vedremo nella prossima slide come prima nel metodo algebrico non c'è bisogno di disegnare nulla dobbiamo semplicemente svolgere i conti faremo quello che si chiama un sistema di equazioni cioè scrivo l'equazione della prima retta y uguale a 3x-3 e subito sotto, come si dice a sistema, scrivo l'equazione della seconda retta y uguale a meno x più 5 il mio obiettivo è trovare quel valore quei valori, scusate, della x e della y per cui entrambe le equazioni siano vere ci sono vari modi in cui si può risolvere un sistema di equazioni il più semplice, almeno con le equazioni poste in questa forma è prendere queste due espressioni e sottrarle l'una dall'altra cioè fare questa meno questa come si svolge questa cosa? consideriamo il primo membro di entrambe le equazioni devo fare il primo membro di questa meno il primo membro di questa quindi fare y meno y ovviamente fa 0 e questo l'ho fatto apposta perché mi elimina la y e mi rimarrà al secondo membro un'espressione che contiene solo la x che poi posso risolvere normalmente allora come procediamo? devo fare 3x meno meno x ma la doppia negazione diventa positivo quindi diventa 3x più x ovvero 4x per i termini noto devo fare meno 3 meno 5 che mi fa meno 8 e a questo punto come vedete ho un'equazione normalissima nella x che posso risolvere con il solito sistema aggiungo per esempio 8 a tutti e due membri quindi mi viene 8 uguale a 4x a questo punto non mi rimane che dividere per il coefficiente della x quindi divido per 4 entrambi i membri e mi viene e non dovrei stupirmi a questo punto x uguale a 2 e a questo punto mi trovo la y la cosa bella è che questo 2 a questo punto lo posso mettere sia in questa che in questa equazione perché? perché dovrebbe darmi lo stesso risultato posso anche verificarlo per esempio cosa succede se metto x uguale a 2 qua dentro mi diventa y uguale 3 per 2 fa 6 6 meno 3 uguale a 3 e questo è quello che succede per la prima equazione vediamo cosa succede con la seconda equazione y uguale a meno 2 più 5 quanto fa meno 2 più 5? ovviamente fa 3 questa cosa mi deve stupire il mio sistema ha funzionato e cosa mi dice questo? mi dice che il punto di intersezione di queste due rette è il punto di coordinate 2 3 e di nuovo lascio a voi il compito di verificare che questo è esattamente lo stesso risultato che abbiamo ottenuto con il metodo geometrico e per questo è tutto arrivederci da Mr. Poschetti grazie a tutti